Ciao a tutti, anche quest'anno la collezione Mazzolini trasloca alla Casa del Popolo di Rivergaro e lo farà mettendo in mostra una parte di quelle opere solitamente celate nei cavoli. Qui, a fianco a me, abbiamo un'opera straordinaria che porta la firma di Giuseppe Minieco, artista molto importante, il massimo esponente del cosiddetto espressionismo in Italia. Guardate questo piccolo quadretto, formato in dimensioni molto molto piccole. Troviamo una donna che sorregge un piccolo mazzo di fiori, un abbozzo possiamo dire, un acquerello, pochissime pennellate, rese appunto con questo contorno molto molto marcato. Minieco è innamorato di Van Gogh e in queste pochissime e rapidi schizzi lo dimostra al meglio.